I carabinieri di Taranto hanno arrestato Fabio Murianni, trentenne, ritenuto il mandante dell'agguato del 31 agosto scorso in Via Bruno, nei pressi dell'ospedale Santissima Annunziata, nei confronti del cinquantenne Gianfranco Pignatelli. L'uomo era stato ferito alle gambe e al basso ventre da due proiettili calibro 7,65. L'esecutore, il trentenne Francesco Mancino, si era già costituito all'8 settembre scorso. Si è trattata di una vendetta a seguito di un litigio tra i fratelli Gianfranco e Gualtiero Pignatelli e Fabio Murianni. I tre avevano litigato lo scorso 28 agosto, quando l'atmosfera era diventata piuttosto incandescente. Murianni aveva uscito la pistola e ha provato a sparare contro i due, ma l'arma si è inceppata. I fratelli Pignatelli lo hanno così disarmato e percosso, mandandolo in ospedale con una frattura alla gamba. La pistola è rimasta nelle mani di Gualtiero Pignatelli, poi scoperto ed arrestato dalla polizia per la detenzione dell'arma. La voglia di vendetta ha indotto Murianni ad assoldare un killer, Francesco Mancino. Murianni, ristretto ai domiciliari, risponderà di duplice omicidio. Lunedì l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Tommassino.